Alcuni parlamentari di diverse forze politiche hanno raccolto l'appello del sindaco di Amatrice e trascorreranno qualche giorno nelle zone colpite dal terremoto. Simonetta Guidotti Dormiranno in tenda per tre giorni e mangeranno alla mensa dei terremotati dando una mano dove è possibile. I parlamentari che hanno accolto l'invito del sindaco Sergio Pirozzi a vedere con i propri occhi cosa significhi vivere in questo momento ad Amatrice. Il primo a rispondere all'appello rivolto a tutte le forze politiche è stato Roberto Giacchetti del PD che ha trascorso con la famiglia il Natale nel comune Reatino e questa mattina sono arrivati ad Amatrice Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Fabio Melilli del Partito Democratico. Il sindaco ha avuto un'ottima idea perché noi facciamo le leggi a Roma ma se le leggi non funzionano dobbiamo rendercene conto direttamente sul territorio e se non funzionano vuol dire che le stiamo facendo male.